La storia su altrettanti incontri per l'Italia femminile del volley ai mondiali che si stanno svolgendo in Giappone senza fare calcoli, nonostante fossero già qualificate per le Final Six, le azzurri hanno battuto per 3-1 anche gli Stati Uniti campioni del mondo, guadagnandosi così la certezza del primo posto nel girone. 9 su 9 in un mondiale non era mai capitato. L'Italia continua a volare in Giappone che da Osaka si sposterà ora a Nagoya per la terza fase della rassegna irridata. L'Italia di Davide Mazzanti continua ad impressionare, a crescere dopo Cina, Russia, stende anche gli Stati Uniti. L'Italia gioca bene in tutti i fondamentali, continua a murare ed impaurire ogni avversario, anche gli Stati Uniti. Ben 15 muri, 4 di Mirian Silla e 5 di una straordinaria. Paolo Egonu. Questo per noi è stata una sorta di conferma perché avevamo voglia di giocare contro le campionesse in carica del campionato del mondo e avevamo voglia di metterci alla prova e di fermarle e portarci a casa altri tre punti. Ok, non posso dire che è come se non fosse stato fatto niente, ma adesso si riparte da zero, ci sono altre cinque partite importanti e si va avanti. Cariche. Proprio l'afro italiana ha messo giù 25 punti, oltre a tre ace. È la leader di una nazionale di leader. È tornata regia Ophelia Malino, brava a imbeccare ogni suo attaccante. La piccola reazione degli Stati Uniti è arrivata nel terzo set con le azzurre già prima nel girone. È un'Italia attenta.